L'allevamento amatoriale cinofilo Buddha Dog si pone al tuo fianco per una scelta consapevole del tuo nuovo amico a quattro zampe con competenza e passione. Dispone di una pensione con box confortevoli e ampi spazi all'aperto. Ti aspettiamo a Valeggio, provincia di Pavia, in via Roma 22, telefono 348 5752 778. Consulta il sito ufficiale www.buddadog.net. Siamo anche su Facebook.